Il giocato al calcio inglese, il giovedì alle 18.45 sulle frequenze di Punto Radio su Punto Radio.fm Con Massimo Corsini e Giovanni Manenti Eccoci qua allora, ben ritrovati, ben ritrovati No, ti devo aprire ancora il microfono, ecco, ora lo puoi dire Cattivo! Good evening! Ben ritrovati dopo una settimana di assenza, torna per fortuna a Anglocalcio Inizia a salutare subito il mio amico Maurizio da Birmingham Maurizio di Malta da Birmingham, periodaccio per noi, speriamo passi alla svelta Buonasera Giovanni, intanto come hai trascorso questi 15 giorni di calcio inglese? Stiamo volando sempre più in testa la classifica, noi di Peppe Guardiola Ci fa gli auguri di Natale, il nostro Maurizio e contraccambiamo Merry Christmas Ovviamente no, a parte gli scherzi, c'erano due partite fondamentali Il Manchester City ha vinto il derby con lo United In maniera anche più netta di quello che è stato il 2-1 finale Anche se effettivamente i due gol sono stati un po' due gollonzi Ma a molte altre occasioni sono stati falliti E poi soprattutto ha stracciato in maniera quasi incredibile 4-1 il Tottenham dando una dimostrazione di una superiorità di gioco straripante Fra le altre cose, visto che poi si parla di coppe Perché c'è stato il ricupri di FK, c'è stato un sacco di cose Il trofio, visto, però ci sono state anche i quarti di finale della League Cup Eh, quarti di finale della League Cup Con una grandissima sorpresa La grandissima sorpresa che è stata anche molto bella nel finale Molto tenero da calcio di altri tempi Perché quando il Bristol City ha segnato la rete del 2-1 Mancava pochissimo alla fine Eravamo quasi a the last kick of the game, no? Come si dice Cioè, a un certo punto un ragazzino è entrato in campo Un ragazzino del Bristol City Ma piccolino, avrà avuto 10 anni, 11 anni Cioè, proprio impazzito di gioia E corso verso l'allenatore del Bristol City Per andare a abbracciarlo L'hanno bloccato No, non l'hanno bloccato Salutiamo Luca Barbone Non l'hanno bloccato Lui è andato ad abbracciare l'allenatore L'allenatore l'ha abbracciato forte L'ha preso come se fosse il giocatore che ha segnato il gol Ah, capito Una scena veramente da... Questa del libro cuore Sì, una scena da calcio di altri tempi, no? C'è stato questo gol Questo bimbo è impazzito completamente Perché questa sarà una storia Che questo bimbo racconterà I nipotini tra 50 anni Quando li prenderà sui ginocchia, no? Ma diciamo che probabilmente Ci farà anche un bel tema a scuola, eh? Sicuramente Prenderà anche un bel voto Ed è bella però la reazione dell'allenatore Che l'ha abbracciato Proprio senza esitazione Senza proprio nessun Magina te se sbagliava Andava da Mourinho Pugliava l'ucio affatto Eh, è proprio No, ma non ti credere Perché Mourinho Nonostante la sua nomea Io credo che con i ragazzini così Sia molto gattusiano Ecco sotto questo aspetto Diciamo che comunque C'è stata una perla Il primo gol del Bristol City Una cosa... Assolutamente Madonna Un sinistro All'incrocio dei pali No, no Bristol City che ha Questo ora Beppe Magari ci rimane male Però Però Bristol City Secondo me parlate un po' troppo Di questo Bristol City Il resto Beppe Mi va a parlarne Perché ho capito Ma insomma Vabbè Però questo Bristol City Conferma Ecco però a noi mai Eh no Perché non avete fatto l'impresa Noi mai Non ha E sta confermando Tutto quello di buono Che sta facendo vedere Anche il campionato Dove comunque occupa Il terzo o quarto posto In pianta stabile Si prepara ad affrontare Mi ricordo Manchester City 26 No no In coppa Il Manchester City Quindi passa Da un Da un Manchester all'altro Mentre il sorteggio Della seconda semifinale Ha opposto Un bellissimo derby londinese Fra Arsenal e Chelsea Quindi insomma A questa coppa di Lega E ovviamente Il Manchester United Giocava con Rashford Con Paul Ba Con Ibrahimovic Non è che ha mandato i bambini In FA Cup Manca la favola E mancata Nel secondo turno E mancata anche Nei replay del secondo turno Perché se è vero Come è vero Che Lireford Ha perso in casa 2 a 0 Contro il Fleetwood Il Walking Ha perso 5 a 2 A Peterborough Il Field Ha perso 3 a 2 A Wigan Ha perso 3 a 2 Male anche Se vogliamo Però Ha perso Insomma E mancata Veramente La favola La favola Di Di FA Cup L'abbiamo trovata Nella League Nella League Cup FA Cup Che ovviamente Lo ricordiamo Si giocherà La prima domenica Il primo fine settimana Del nuovo anno Quindi Sì perché tanto Per quanto riguarda Invece le varie league Si gioca A Natale Santo Stefano Il giorno dopo Il primo gennaio L'ultimo dell'anno Quello Quello non c'è Non c'è assolutamente Problemi Non c'è assolutamente Problemi Dicevo invece Come si dice Alle nostre parti È stato deferito Il Wimbledon Perché? Ecco Qui sta la curiosità È stato deferito Il Wimbledon Per aver Violato Una norma Discriminatoria Nei confronti Di un'altra squadra In occasione Lo so che hanno fatto Hanno dato Da mangiare La carne A quelli Di Forest Green No Che per fortuna Ha perso Il replay Con l'Exeter Quindi Wes Browich Giocherà con l'Exeter Anche se Maurizio si lamentava Solo 300 biglietti Però Lo stadio è piccolo St. James'Spark E dicevo No Hanno Palesemente Discriminato Il Milton Kings Don'ts Ebbè Non inserendo Il nome Del Milton Kings Nel program Match E anche Nel tabellone Elettronico Del Kings Maid Lo stadio Dove giocano C'era scritto Soltanto MK E basta Perché loro Il Milton Kings Don'ts Non lo vogliono Neanche Sentire Nominale Due sole squadre Non hanno perso Nelle ultime Cinque partite Una Ovviamente Il Manchester City Che non ha perso mai Una Il Manchester City Che non ha perso mai Ma soprattutto Bisogna dire Lorenzo Nigi Che Leverton È la seconda squadra Dopo il Manchester City Con La striscia positiva Più lunga Questo penso Che gli faccia piacere Anche perché Da un po' di settimana A questa parte Un certo signor Wayne Rooney Ha ritrovato La via della rete Guarda strano Lorenzo dice bene Dice benissimo Grazie Giovanni Buonasera 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 a tutti È il nostro Signore dei video Lorenzo Nigi Ragazzi Quando voi vedete I video su Youtube Allora Su Facebook È il nostro producer È il nostro producer Effettivamente Potrei anche definirmi Regista Visto che Ruffini Si è definito Regista Per un male Ecco bravo Hai ragione Fatta sotto Nasale Allora io sono Regista Eh sì Giustamente Comunque parliamo Di questo Everton Che a parte Si sta riprendendo In classifica Questo perché Era una posizione Quasi simile A quella De Westbrovic Però Dicevo Runei Se sta continuando A tenere queste Medie Può effettivamente Io ero un po' Scettico Ma visto che qua Almeno tre o quattro Anni ancora Da giocare A buoni livelli Ce l'ha Di poter insediare Il record assoluto Di gol Nella premiership Da parte di Alan Shearer No è vero Guarda Ne stavamo discutendo Su Facebook Nella pagina privata Del club Di Everton Italia Io l'ho mandata lì E si stava pensando Ma se chiude A 20 quest'anno Fa 20 il prossimo anno Ce la si può fare È vero anche Mi hanno fatto notare Che sta riducendo Indietreggiando Un po' Il campo d'azione Perché Mallard Lo sta mettendo Ora Come ora Quasi a fare Regista Di supporto All'attaccante E un po' Bisognerà vedere Gli sviluppi futuri Però Lo sta facendo Messi Lo può fare anche lui Sì A voglia Ma poi comunque Vado C'è un'altra Su l'unica C'è un'altra Statistica Molto interessante Che a parte Tra nazionale Champions League Everton Manchester United Ha fatto Fra gol E assist Entrato in 500 Un Segnature Che è tanta roba Considerando Che Insomma Sono anche tanti assist Il giocatore Come Non lo scopriamo Di certo ora Come detto in passato Se Da una parte Una mano Da una mano Da una parte Crea delle situazioni Di spogliatoio Che Insomma Non sono facilissimi Ma non per colpa Di Runi Per colpa degli altri Probabilmente Che Dicono Eh vabbè Te parlano tutti di te Allora fai te Cosa che ha portato Fai Mentre Dico di All'Arte Alla fine Bene 19.25 in punto Siamo arrivati Strapuntuali Alla fine Questa puntata Lorenzo Che dire Noi ci facciamo Tantissimi auguri Di buon Natale Di buone feste E noi siamo impegnati Col calcio inglese Comunque Anche se Giovedì prossimo Ahimè Non andremo in onda E che c'è un Improrogabile impegno Di pallavolo Con la Con la figlia Uno sport che lui Ha sempre amato Sì veramente Veramente Questa è la legge Del contrappasso Dantesco In vita Invece che in morte Capito? È vero È vero È vero Senti ragazzi Io volevo fare anche Gli auguri A tutti i nostri Ascoltatori I nostri clienti E alle loro famiglie E ricordatevi che Questa è una piccola Soletta Per virgolette Pubblicitaria nostra Che sulla pagina Facebook Continueranno a uscire Notizie E anche filmati Che ho già preparato Per Per queste vacanze Perché Soli Non vi lasciamo Mai E non vediamo l'ora Di vederli E buon anno a tutti Grazie Lorenzo Un abbraccio Ciao Lorenzo Un abbraccio Ciao Ciao Giovanni Siamo arrivati in chiusura Anche noi Giovanni Non resta che salutare Tutti i nostri Radioascoltatori E augurarli Merry Christmas Ma Larry È vivo Eh sì è vivo È di là che È rimasto solo Dalla parte In genere Chatta con qualcuno Ma stavolta No è solo Comunque come si dice Merry Christmas Happy New Year Merry Christmas Xmas Ci vediamo Nel 2018 Sì ma subito Quando ci sarà Un sacco di cose Da raccontare Perché ci saranno E fake up Turni di campionato Domenica 24 31 è domenica Quindi si rigioca Il set Insomma il 4 Ecco il 4 siamo qui Non vi lasciamo soli tantissimo Un abbraccio a tutti Grazie per essere stati con noi And good night Anglocalcio FM Il programma interamente dedicato al calcio inglese Il giovedì alle 18.45 sulle frequenze di Punto Radio su Punto Radio.FM Con Massimo Corsini E Giovanni Manenti È un'altra racc grote Grazie per chiamo Grazie per chiamo Grazie per chiamo Grazie a tutti.